La titanza adorata, sequestrato un tesoretto da 7 milioni di euro al re delle oli con l'imprenditore Salvatore Angelo Di Salemi, fedelissimo di Matteo Messina Denaro. Per ogni appalto destinava una quota alla primula rossa. Peccati da espiare, emerge un'ulteriore storia su quel 23 febbraio 2010, giorno in cui l'avvocato penalista Enzo Fragala venne ferito mortalmente, a raccontare come andò il collaboratore di giustizia Antonino Siragusa, ma la sua avversione non coincide con quella degli altri pentiti. Turisti a terra, duro colpo al turismo maddonita, a causa di alcuni cavilli burocratici la sciovia di pieno battaglia è al momento bloccata, con i turisti impossibilitati a visitare il sito naturalistico. Possibili ritorni negativi di immagine dell'area da sempre zona ad alta densità turistica. Capo, lavoro, l'Orlandina, capo d'Orlando. Sciocca ancora una volta la palla a canestro italiana, battendo al forum di Assago la corazzata Olimpia Milano nella prima gara play-off scudetto della sua storia in Serie A. Fenomenale prestazione del gruppo guidato da coach Di Carlo, i paladini in coro. Stiamo sognando, non svegliateci. Buongiorno e bentrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Un saluto ad Alessianello. E da Giorgia Tabita apriamo questa edizione parlando subito di un imponente sequestro effettuato ai danni del Signore del Vento. Il re dell'eolico Salvatore Angelo in carcere dal 2012 con l'accusa di essere uno dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro, a cui assicurava una latitanza adorata. Sentiamo. L'obiettivo era quello di realizzare un nuovo parco eolico con il doppio intento di sistemare lavorativamente un centinaio di picciotti che gravitavano attorno all'organizzazione mafiosa posta sotto l'egemonia del superboss latitante Matteo Messina Denaro e di finanziare la latitanza della Primula Rossa. L'imprenditore di Salemi, Salvatore Angelo, era finito in carcere nel 2012 grazie alle intercettazioni dei Carabinieri del Rosso e del Comando Provinciale di Trapani con l'accusa di essere uno dei fedelissimi di Messina Denaro. Adesso il Tribunale Misure di Prevenzione di Trapani gli ha confiscato un patrimonio da capogiro. Quattro aziende nel settore edile e della viticoltura, 67 immobili tra ville e terreni e un tesoretto da 7 milioni di euro. Salvatore Angelo si vantava della sua amicizia con il boss di Castelvetrano. Matteo è un grande amico mio. Una percentuale degli appalti così andava dritta dritta a coprire le spese del superlatitante. Dopo i parchi eolici fra Palermo, Trapani, Agrigento e Catania si progettava di realizzare altri a Mazzara, Sciacca, Conte Sentellina, Montevago, Castelvetrano, Menfi, Cimin e Salemi. Quello di Catania sarebbe stato il più grande e poi sarebbe stato ceduto a una multinazionale italo-danese. Un affare enorme ovviamente da suggellare con una tangente milionaria di cui lo stesso Salvatore Angelo avrebbe dirottato una grossa fetta a Messina Denaro che nonostante la rinuncia al governo diretto del territorio per gestire in maniera più tranquilla la latitanza continua ad alimentare la rete degli appalti pilotati. Sarebbero stati soltanto in tre quella notte del 23 febbraio 2010 e fu lui stesso ad aggredire violentemente l'avvocato penalista Enzo Fragolà morto dopo tre giorni dall'agguato. Il neocolaboratore di giustizia Antonino Siragusa racconta una nuova versione di quella tragica notte che però cozzerebbe con quella degli altri pentiti. Sentiamo. In carcere ci sono tre ragazzi che non c'entrano niente. Così il neocolaboratore di giustizia Antonino Siragusa difende gli arrestati Francesco Arcuri, Paolo Cocco e Francesco Castronovo raccontando un'ulteriore versione di quel 23 febbraio 2010. Ad aggredire violentemente l'avvocato penalista Enzo Fragolà davanti al suo studio legale a pochi passi dal tribunale di Palermo furono lui stesso e i boss Salvatore Ingrassia e Antonino Abate. Una rivelazione che ancora una volta non coincide con quella fornita dal collaboratore Francesco Chiarello e sulla quale si era basata la riapertura dell'indagine che portò ai recenti arresti. Se da un lato Chiarello ha raccontato che fu Abate a riconoscere Fragolà da lontano lanciando il segnale ai compagni che lo pestarono, Siragusa invece racconta di aver accompagnato Abate sul luogo dell'agguato e che fu lui stesso ad aggredire l'avvocato. Il coso di legno l'ho portato io, continua Siragusa, riferendosi all'arma del delitto. Forse non è stata trascritta giusta l'intercettazione. Eravamo in tre, se non volete credermi, non posso farci niente. Ma ad incuriosire i PM è stata la confessione di cocco alla moglie, effettuata durante un'altra intercettazione, in cui quest'ultimo riconoscerebbe la sua colpa nell'omicidio del penalista. Ora il verbale integrale con le dichiarazioni di Siragusa, composto da ben 160 pagine, è stato consegnato dai PM al GIP che a luglio dovrà decidere sulla sorte dei sei indagati attualmente in carcere. Una vita da incastonatore di gioielli con tanto di famiglia e quel vortice criminale che lo trascinò. Il collaboratore Siragusa svela molto altro oltre l'omicidio Fragolà e racconta della sua entrata in scena nei clan palermitani. Vediamo. Non una notte, ma una vita intera di peccati da espiare, come se lì ad ascoltarlo ci fosse una schiera di confessori e non di magistrati. Il collaboratore di giustizia Antonino Siragusa afferma di essersi pentito davvero e non solo per l'omicidio dell'avvocato Fragolà. Io come mestiere faccio l'incastonatore, ha raccontato il PM, facendo della sua presenza all'interno dei clan palermitani una piccola parentesi in una vita normale. Mio padre scomparve nell'89 per la lupara bianca. Per un periodo della sua vita Siragusa avrebbe anche cercato di lavorare onestamente, comprando e rivendendo pietre per diversi comprooro di Palermo, fino a quando, un bel giorno, venne chiamato dalla famiglia di Borgovecchio e poi da quella di Resuttana che lo portò alla sua prima condanna. I suoi primi incarichi all'interno di quel mondo i vennero affidati nel 2009, quando ebbe contatti diretti con Antonino Abate e Salvatore Ingrassia. Abate era quello che comandava a Borgovecchio, ha raccontato. Ingrassia, come me, si occupava di estorsioni e danneggiamenti. Poi nel 2010 Siragusa tornò nuovamente in carcere per un residuo di pena e una volta uscito venne affidato a Mimmo Russo, sindacalista, che ha combattuto tante battaglie per il reinserimento sociale degli ex detenuti. Tornato in libertà, Siragusa afferma che avrebbe preferito restare lontano da quegli ambienti, ma un cugino gli disse che a Resuttana avevano bisogno di una mano, non avevano nessuno. Siragusa ammette di essersi occupato di estorsioni ordinate da Abate, ma anche di piazzare i videopoker voluti da Cosa Nostra. E così fu pure nel 2012. Nel 2013, al Borgo, con Giuseppe Tantillo, riporta lo aiutavo a prendere i soldi di Pasqua e Natale. Siragusa indica anche alcuni commercianti vittime del racket, un benzinaio nella zona del Lucciardone, un fruttivendolo e un ottico nei pressi di Via Archimede. Nove anni in carcere, anziché 12 per Nunzio Milano. Arriva la riduzione di pena per il boss del mandamento di Porta Nuova e per Emanuele Vittorio Lipari, altro affiliato alla Cosca Palermitana. Per gli altri sei imputati nel processo d'affello nato dall'operazione Iago dell'aprile 2014, i giudici della quarta sezione del Tribunale hanno confermato la sentenza già messa in primo grado, con il rito abbreviato a novembre del 2015. L'operazione dei carabinieri aveva permesso di evitare una nuova guerra di mafia. Secondo gli inquirenti, infatti, dal carcere il boss Giovanni Di Giacomo avrebbe dato l'ordine al fratello Giuseppe di eliminare alcuni mafiosi che si stavano organizzando per prendere il potere a capo del mandamento di Porta Nuova dopo l'arresto delle boss Alessandro D'Ambrogio, avvenuto nel luglio del 2013. Aveva fornito un'utenza italiana ad Anissa Amri, l'attentatore di Berlino, con il quale era rimasto costantemente in contatto fino a poco prima che si verificasse la sparatoria in Germania. È stato così espulso dal territorio nazionale per motivi di pericolosità sociale Saiede Yacoubi, cittadino tunisino di 36 anni, da tempo domiciliato in un casolare di Belpasso nel Catanese. Dalle indagini condotte dalla Digos di Roma e Catania è emerso che l'uomo, oltre ad aver avuto contatti costanti con l'autore della strage avvenuta in Germania, aveva frequentato anche un altro connazionale, Ben Brahim Tarak, di 40 anni, residente a Ragusa ed espulso dall'Italia nel 2015 per diversi precedenti penali, tra cui il possesso di alcuni estratti del Corano inneggianti al fondamentalismo islamico. Dal gennaio 2015 sono 174 i soggetti reimpatriati dall'Italia per estremismo religioso. Ancora sangue sulle strade siciliane in provincia di Palermo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dopo aver perso il controllo della propria jeep che ha terminato la corsa contro il guardrail. Terribile incidente ieri sera sulla statale 121 Palermo a Grigento. Per Antonino Lisciandrello non c'è stato nulla da fare. Il 35enne, residente a Mezzoiuso, è morto sul colpo. L'uomo aveva da poco lasciato il bibio di Villa Frati quando ha perso il controllo del veicolo all'altezza del chilometro 222 schiantandosi contro la protezione stradale. Inutili gli interventi di carabinieri e vigili del fuoco che arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per alcune ore la statale ha subito pesanti rallentamenti e la dinamica dell'incidente è ancora al baglio delle forze dell'ordine. E cambiamo argomento. Turisti a terra. La sciovia di pieno battaglia nel cuore delle Madonie è bloccata. Motivo dello stop dopo l'inaugurazione dello scorso febbraio e il nulla osta è rilasciato dall'Ustif che prevede la fruizione dell'impianto solo con gli sci ma non a piedi o in bicicletta. Duro colpo dunque per il territorio Madonita da sempre ad alta vocazione turistica. Ce ne parla Marco Pergolizzi. Neve sciolta, impianti di nuovo fermi. E' ciò che succede a piano battaglia nel cuore delle Madonie. La sciovia, inaugurata dopo mille ostacoli lo scorso febbraio è nuovamente ferma a causa di cavilli burocratici. Lo stop arriva dall'Ustif, l'ufficio speciale trasporti e impianti fissi, organo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che lo scorso febbraio aveva rilasciato il nulla osta che costettiva la fruizione dell'impianto solamente con gli sci non prevedendole l'utilizzo a piedi o con le biciclette. Doccia fredda dunque per un territorio, quello di piano battaglia e del comprensorio di Cefalù da sempre ad alta vocazione turistica. Al momento dell'inaugurazione infatti la promessa era stata quella di un'apertura definitiva per 365 giorni l'anno ma ad oggi i turisti che arrivano sul posto con l'intenzione di risalire il sito a piedi o in mountain bike non possono far altro che ammirare l'impianto nuovo sulla carta perfettamente funzionante senza però poterci salire. Gianni Fiore, presidente della piano battaglia SRL ha però assicurato che tra la fine di maggio e l'inizio di giugno la seggiovia tornerà in funzione. C'erano alcune prescrizioni che l'Ustif ci ha richiesto, ha dichiarato in un'intervista il presidente e noi abbiamo provveduto a soddisfarle consegnando tutta la documentazione dieci giorni fa. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto nessun riscontro dall'ente. Si trattava di vincoli relativi alla velocità dell'impianto che per la risalita a piedi deve essere diversa rispetto a quella con gli sci. Era necessario poi fare dei camminamenti costaccionate anche all'arrivo e non soltanto alla partenza, ha continuato l'imprenditore. Inoltre c'era stato chiesto di mettere in sicurezza con una rete il costone roccioso e l'adeguamento delle pedanine per salire sulla seggiovia. Tutte richieste che abbiamo soddisfatto lavorando sodo e proseguendo la stagione invernale fino alla metà di aprile. Fiore conta di riaprire l'impianto entro la fine del mese organizzando un grande evento sportivo, culturale e naturalistico anche se ufficialmente per ora la rimessa in funzione della struttura è prevista per agosto. E lasciamo pieno battaglia per aprire la pagina dello sport il calcio, penultima vigilia casalinga di campionato per il Palermo di Diego Bortoluzzi già retrocesso matematicamente in Serie B. I Rosa non hanno più nulla da dire in questa stagione se non limitare i record negativi fin cui raggiunti. Due assenze a centrocampo per la sfida di domani al Barbera contro il Genoa, quella di Gazzi e Iaglialo con scelte obbligate per il tecnico. Sarà 3-4-2-1 con il rientro in avanti di Nestorowski davanti a Diamanti. Ho chiesto ai ragazzi di dare il 100% fino alla fine della stagione ha dichiarato questa mattina Bortoluzzi e comunque il campo non dice bugie altrimenti me ne sarei accorto. Intanto sembrano allungarsi i tempi per il raggiungimento del closing nel cambio di proprietà ai vertici del club rosa-nero. I tecnici al lavoro ci hanno chiesto più tempo e le parti stanno lavorando per soddisfare tutte le richieste con grande tempestività. Così da accertare la chiusura delle operazioni. Ha scritto ieri Paul Baccaglini in una nota ufficiale. L'inizio della prossima settimana resta la deadline più vicina. E in Lega Pro è tempo di play-off con la favola Siracusa che vuole continuare a stupire nel primo turno ad eliminazione contro la Casertana domani sul proprio campo. E il Catania ha ritrovattosi un po' per caso in post-season che dovrà vedersela in casa dello Juve Stabia. Ascoltiamo Lorenzo Infuso. Diversi avversari, diversi momenti di forma ma stesse identiche ambizioni. I play-off di Lega Pro cominciano anche per Siracusa e Catania le due siciliane del Girone C che sono riuscite ad assicurarsi un posto per la post-season che le vede presenti tra le 28 squadre pronte ad azzuffarsi in quelli che, più che play-off, sembrano dei giochi gladiatori. Solo gare secche che vedranno i siracusani di Sottile favoriti dalla classifica nello scontro con la Casertana e che dunque si giocheranno domani il passaggio del turno tra le munamiche del De Simone. arriviamo a questo appuntamento consapevoli di aver fatto più di quanto avevamo programmato e dopo aver raccolto consensi e complimenti da un calcio nel quale, vorrei ricordare, siamo all'esordio così il presidente del Siracusa, Gaetano Cutrufo ha cercato di togliere pressioni ai suoi e contemporaneamente scaldare i tifosi. Assai più complicato l'impegno che vedrà il Catania di Giovanni Pulvirenti far visita allo Juve Stabia in quella che si prospetta una bolgia al Menti di Castellammare. I nostri avversari vorranno impostare la partita ha avvertito il tecnico Etneo il Catania nell'ultimo periodo è cresciuto per settimana abbiamo ricucito, rattoppato adesso si è chiusa la stagione regolare con maggior coscienza di quello che siamo e possiamo fare tante le assenze con Biaggianti, Bergamelli, Fornito, Di Cecco, Sessa e Pier Marteri out per la gara secca nella quale anche un pareggio qualificherebbe i campani per la migliore classifica. Ai rossazzurri servirà a cogliere una miracolosa vittoria visto il ruolino da sette sconfitte un pari è solo un successo con il quale hanno chiuso la stagione regolare per i play out che vedranno impegnata l'Agregas nel doppio confronto con il Melfi bisognerà invece aspettare domenica prossima. Cambiamo sport, siamo al basket una serata che resterà impressa nella storia della palacanestro siciliana quella di ieri sera che ha visto la Betland capo d'Orlando esordire nei play-off scudetto di Serie A e battere, pensate, a domicilio i campioni d'Italia in carica dell'Olimpia Milano ce ne parla Lorenzo Infuso Servivo un capo lavoro più di un'impresa perché anche se nello sport le favole esistono era audace ipotizzare che la squadra di basket di un paesino siciliano da 13.000 abitanti potesse dettar legge nel principale tempio della palacanestro italiana ossia il forum di Asago casa dell'Olimpia Milano eppure Davide è riuscito a battere golia ad annientarne certezze e arroganza la Betland capo d'Orlando ha scritto un'altra pagina della sua storia senza dubbio la più importante superando Milano 80-87 nella prima gara della serie di quarti di finale play-off se è vero che la perfezione non esiste il match dei paladini è stato ciò che più si possa avvicinare a qualcosa di perfetto l'avvio devastante con le triple di Diner e Ivanovic la lotta in difesa e il rimbalzo di Delas e Iannuzzi e rientro in campo di Arci dopo i problemi fisici a regalare il più otto di fine primo quarto Milano si risveglia dal torpore con le prime bombe firmate Ickman e con un pascolo che da solo prova a ribaltare la gara senza però riuscirci in cattedra rimangono Tepic e compagni con l'ala serba che si inventa la giocata dell'anno rubando il possesso agli avversari palleggiando tra le gambe di Ickman e chiudendo con un assist dietro la schiena per l'appoggio facile di Kikowski spettacolo nel finale solo un po' di apprezzione per l'orgoglio ferito dei campioni d'Italia in carica che devono piegarsi alla piccola grande orlandina di coach Gennaro Di Carlo anche lui ad esordio in una gara playoff scudetto davanti ad un mostro sacro come l'allenatore delle A7 Yasmin Repeja gara 1 è una fotografia da incorniciare per tutta Capodorlando e tutta la Sicilia del basket che si gode una propria squadra avanti 1-0 nella serie contro i campioni in carica domani il secondo capitolo sempre a Milano prima di gara 3 in programma al Palafantozzi martedì sera lo stesso tempio della magia che solo 7 anni fa vedeva questa orlandina lottare in Serie C regionale e con lo sport è tutto Alessio siamo in chiusura prima però vi ricordiamo che potete inviarci le vostre segnalazioni alla pagina Facebook CTS Compagnia Televisiva Siciliana adesso vi lasciamo alle notizie dall'Italia e dal mondo e al meteo grazie per averci seguito buon fine settimana arrivederci un cordiale saluto da Alex Guarini di Trebi Meteo nel corso di questa domenica un temporaneo rinforzo di un campo anticiclonico dal Mediterraneo centro occidentale in direzione dell'Italia darà luogo a una fase decisamente più stabile soprattutto sulle nostre regioni centro-meridionali con un cielo praticamente sgombro da nubi ad eccezione di innocue stratificazioni in risalita dal Nord Africa notate però questa nuvolosità in transito su Nord Italia questa nelle ore centrali della giornata produrrà rovesci e qualche temporale soprattutto su Alpi e Prialpi questo lo vediamo tra poco notiamo intanto il dettaglio relativo alle precipitazioni previste notate nella prima parte della giornata un tempo generalmente asciutto ma poi a partire dal pomeriggio si svilupperanno rovesci temporaleschi su Alpi e Prialpi in locale sconfinamento verso la Val Padana qualche piovasco non escluso anche sull'Appennino ma vediamo quindi nel dettaglio il tempo previsto sulla nostra penisola c'ero in gran parte sereno a poco nuvoloso su gran parte del centro sud delle nostre isole maggiori notate i rovesci temporali pomeridiani dalle Alpi in locale sconfinamento verso la Val Padana le temperature saranno miti da nord a sud ma farà più caldo al meridione con massime tratti prossime ai 28-30 gradi con questo è tutto per aggiornamenti dettagliati seguitici su trebimeteo.com grazie a tutti Grazie a tutti.